Noi abbiamo iniziato una discussione con l'azienda da gennaio che ha dichiarato un esubero sulle ore contrattuali previste nell'appalto. Non siamo riusciti a trovare una soluzione perché l'azienda ovviamente ha come unico obiettivo una riduzione contrattuale senza la possibilità di applicare flessibilità piuttosto che una fase di sperimentazione che ci permetta anche di comprendere le reali necessità dell'appalto perché noi abbiamo il dubbio che quello che oggi l'azienda vuole sia molto di più di quello di cui l'appalto necessita e ad un certo punto ha rotto il tavolo della trattativa. L'azienda ha comunque proceduto ad applicare una riduzione direttamente ai lavoratori, quindi al lavoro quotidiano dal primo maggio e ovviamente noi non potevamo essere d'accordo. Abbiamo chiesto un tavolo in prefettura perché ritenevamo opportuno avere anche un confronto con la ASL, il committente che non ha mai risposto alle nostre richieste d'incontro né formalmente né informalmente. Ha voluto ascoltare in qualche maniera la voce di questi lavoratori ma anche in prefettura l'ASL non si è presentata. Questo per noi rappresenta un problema perché noi riteniamo che sia garante di quello che oggi l'azienda dichiara non perché non vogliamo immaginare che ci siano dei problemi perché sappiamo che la sanità abruzzese si sta ristrutturando e purtroppo uno degli esiti di questa ristrutturazione è proprio l'abbassamento delle condizioni economiche dei lavoratori più deboli negli appalti dell'ASL. Avremmo comunque voluto fare un confronto con l'ASL anche per capire cosa succederà in futuro visto che c'è una ristrutturazione più generale e noi possiamo dal nostro punto di vista immaginiamo che invece nell'ospedale di Pescara ci sia proprio un incremento anche delle degenze e quindi non vediamo questa riduzione dei pasti così come l'azienda oggi ce la promuove. Grazie